Il dicastero per i laici, la famiglia e la vita, come dichiarava recentemente il prefetto Cardinal Farrell in una intervista all'osservatore romano, si può definire quale cantiere. Un cantiere all'opera, lo è in ragione dei lavori di ristrutturazione ormai a buon punto, al termine dei quali potremo trasferirci tutti in un'unica sede al terzo piano del Palazzo di San Calisto e direi è altresì un cantiere in ragione del lavoro quotidiano che ci occupa al servizio del Santo Padre e della Chiesa Universale nel far fronte a quelle competenze che sono confluite dall'accorpamento di due precedenti pontifici consigli e a quelle competenze che sono sopraggiunte con la nascita del dicastero stesso. Le competenze di un dicastero come il nostro, appunto per i laici, la famiglia e la vita, si rivelano sempre più nel loro nesso, nella loro trasversale interconnessione. Come potremmo parlare di famiglia senza considerare quella che è la vocazione battesimale dei laici, senza pensare alla formazione dei laici? Come potremmo parlare di vita umana in tutte le sue declinazioni e anche di sfide educative in materia senza considerare i giovani, gli anziani, senza considerare la donna e l'uomo nella loro relazione all'interno della famiglia, della Chiesa, della società? Direi che nel nostro lavoro quotidiano emerge proprio con sempre maggiore evidenza che il dicastire posto al crocevia di quelli che sono gli snodi vitali di ogni uomo e donna contemporanei. L'incontro con le associazioni, i movimenti, le comunità che afferiscono al nostro dicastero costituisce una fetta importante del nostro lavoro quotidiano. Noi riceviamo costantemente associazioni, aggregazioni laicali per svariati motivi. Ad esempio li riceviamo in occasione dell'approvazione dei loro statuti, quando vengono eretti quelle associazioni internazionali di fedeli o ancora li riceviamo quando ad esempio dopo difficoltà problematiche interne che alcune associazioni hanno attraversato affrontano un rinnovato discernimento riguardo la loro identità. Ci sono poi associazioni che ci chiedono di accompagnarle e di aiutarle in una fase magari delicata in cui vivono un'inquietudine che comporta una considerazione attenta di quello che è l'opportuna e necessaria compenetrazione tra carisma e istituzione. Come dicastero della Santa Sede ci ha affidato un compito di vigilanza sulle associazioni, sui movimenti, sulle comunità che afferiscono al nostro dicastero. di sostenere, incoraggiare queste associazioni nella loro crescita affinché rimangano fedeli al dono specifico, al carisma loro affidato e nella tutela di quelli che sono i diritti e doveri fondamentali dei membri di tali aggregazioni e anche di coloro ai quali si rivolgono nell'esercizio del loro apostolato. Vigilanza da parte nostra non significa mortificazione, significa direi custodia. Custodia esattamente come è per un padre e una madre i quali con mezzi e strumenti diversificati ascoltano, sostengono, correggono, talora vietano, incoraggiano i loro figli, quale dono non di esclusiva proprietà ma quale dono che il padre fa alla chiesa madre. Occorre sempre più che il nostro dicastero esprima maggiormente la paternità e maternità nella chiesa verso tutti i fedeli laici, verso coloro che non associati vivono il loro quotidiano nella famiglia, nelle realtà parrocchiali, nelle diocesi, nella società, in quelle che sono le sfide di ogni giorno, di ogni uomo e donna di oggi. È infatti nella vita ordinaria che siamo chiamati come fedeli, battezzati, a vivere in maniera coerente, in maniera responsabile, in maniera conseguente la nostra vita di battezzati. In questo senso mi sembra particolarmente calzante quanto il Santo Padre Francesco ha scritto nella recente esortazione apostolica e che preferisco leggere, proprio per l'efficacia delle parole utilizzate dal Papa. Al numero 14 si legge Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza al tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. E sintetizza il Papa nell'esortazione apostolica, tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.